Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo death run iniziamo subito molto male Perché non siamo già ai cecchini Porca vacca Allora vi dico subito che siamo solamente in tre perché questo death run prevedeva soltanto Sei per Ok sei persone soltanto chiedeva e quindi eccoci qua Allora fatemi subito mettere un bellissimo accesso No dove cavolo è giubbotti antiproiettili eccoli qua Dall'ultimo death run mi sono dimenticato di comprarne un po' Corri Cavolo lì c'è un'altra bombola lì c'è un'altra bombola Salta ok Sperando che gli altri non la vedano No 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 la macchina E adesso siamo noi a sforacchiare tutte quante le persone Sapete se forse mi date un coso un cecchino Non è che mi farebbe schifo eh Porca vacca ingordi che non siete altro Dunque guardiamoci un attimo Questo death run è abominevole Cioè io sono morto là E siamo vicinissimi E poi uno doveva passare lì quindi là uno esplodeva Ok un altro death run di quelli impossibili Guardate schifezze che ci sono nel cielo Cioè è impossibile ragazzi sfido chiunque A riuscire a passare Ma che cavolo Tipo questo qua me lo faccio fuori Ma dai me lo faccio fuori io Con una Vabbè le macchine Oh almeno cadono quelle che a cui sparo Lascialo passare Lascialo passare Non ucciderlo Non ucciderlo Troppo tardi Non ucciderlo Non ucciderlo Ti butto di sotto No è morto No è sparito dalla minimappa È morto È morto Quindi possiamo tuffarci giù anche noi E uno a uno Perfetto Siamo nuovamente qua Però Non ho abbastanza giubbotti antiproiettile Per fare questo death run Uno E poi È veramente Impossible da fare Cioè è troppo Ma perché deve cadere fuori Una cosa qui esplosiva Ok Perché poi deve C'è qualcosa sopra Perfetto Non me fregate Allora togliamo via il piede di porco Cioè c'è troppa roba Troppa troppa roba Vai raga andiamo Tutti e tre Tutti e tre Così non stanno a chi sparare Dai avanti Ok Perfetto Ok Adesso ci sono le macchine Sopravvivi No Ok Tutti e tre morti Perfetto Io pensavo di mettermi Attaccato al container Schiacciarmili contro il container Così cadevano le macchine E non mi prendevano Il mio piano è fallito Miseramente Oh fermi tutti Fermi tutti Il mio compagno di squadra Ci sta riuscendo È Rambo? È Rambo ragazzi Ti fate subito Tutti quanti per lui È senza giubbotto antiproiettile Però Aiaiaiaia Non ci credo È potentissimo Occio Ah lì sta per esplodere Ottimamente lì Quanto mi piacciono Oh sta calmo Questi giocatori così intelligenti Che aspettano un attimo Non come me Come alcune volte Corro No 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 Qua ti beccano Ma esplode o no Vai avanti Vai avanti Non sta esplodendo nulla Solo che poi Come non detto Sta bruciando la macchina Sta bruciando la macchina Qua esplodi Ok Come non detto È stato cecchinato Ho preso un Ho preso qualcosa anch'io Dove siete bastardi? Eccovi là Macchina una Macchina due Bastardi Eccoli qua Perfetto Perfetti E adesso io li aspetto E appena arrivano giù Si fanno fuori Dai senza guardare Ah passa sotto Perché non è caduto? Oh là Eccolo Ho visto un'iper laggata Allucinante Che cavolo Ma quanto Cavolo lagga Sto pezzo Ah C'era la macchina Perché non cade giù sta Ma C'è colpi che Porca vacca È arrivato fino là Attenzione Perché non deve cadere Sto schifo di macchina Oh là Non è esploso? La situazione Non si sta mettendo Proprio benissimo Eh Perché è arrivato Già qua Vabbè che poi Deve scalare Tutta la parete Quindi È veramente Impossibile Ragazzi Scommettiamo Accetto scommesse Beccati In testa Una limousine Un escalade Oh porca vacca Dai cadi Perché non devono cadere Ste macchine Bastardo Sì L'abbiamo eliminato Dai è così Siamo al quinto round Quindi Uno io Uno gli avversari Uno noi Uno gli avversari Siamo due a due Uno si è già suicidato Per quale motivo Per quale motivo Uno è già esploso No No Dai Vistar Tu ce la fai C'è il potere Puoi cadere Perché non deve cadere dentro Il mio personaggio è Akab Perfetto Allora siamo due a due Vince il primo Che arriva Quattro punti Ok è caduto giù tutto E quindi Voliamo anche noi Giù dall'altra Bastardi Bastardi maledetti Ma dove vai Dove corri Giù di testa Facciamo un tuffo Perfetto E uno è già cascato Ottimo La gente viene Va bene La gente è completamente Sbaggata Iperbaggata Non sbaggata Facciamo esplodere Tutto quanto E Basta Sono già tutti morti Che figata raga Ci siamo portati a casa Subito questo round Ma tanto adesso siamo 3 a 3 E dopo Perderemo sicuramente Secondo me Hanno fatto Non dico apposta Ma quasi A perdere subito Perché Ve l'ho detto ragazzi Questo death run È veramente Stra Difficile da fare Da finire Da completare E siccome Hanno iniziato loro In attacco Oh Ce l'ho fatta Si Ce l'abbiamo fatta Cadere in mezzo Adesso Toccava loro Cecchinarci E quindi Boh Io mi lancio Cacca se mi lancio Dai corri 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 Bistar Corri E adesso mi attacco qua Mi attacco qui E secondo il mio metodo Dovrei farcela Esplosioni su esplosioni E V-Stard ce la fa Attenzione E lui E lui che si invola Verso la vittoria Bastardi Fatemi mettere anche l'ultimo giubbotto Anche se Inventario Giubbi antiproiettile Ottimo siamo in due Grandissimo Li prendiamo anche in giro Ottimo così mi piace Mi porto via la panchina io Olè Boh io qua me lancio raga Via Salta Avanti Dai 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 Attenzione Attenzione No 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 Noccio non correre Devi stare Buona Stiamo qua fermi Tanto qua questi non ci vedono Ok Ah ce n'è un altro Beh è vuoto quello Siamo pronti E V-Stard si invola Fermi Giubbi antiproiettile L'ultimo Devo mangiare però Qualcosa Mangiamoci qualcosa Perché se no qua Facciamo una bruttissima fine Ottimo Mangiato tutto Ok Aspetto Nasconditi Vai No 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 Via 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 Mi dispiace compagno di squadra Dai Involati Dai V-Stard Salta Salta Si è bloccato Niente paura C'era anche l'altro mio compagno di squadra Eravamo tutti e tre Lasciate perdere Fate finta che non ho detto nulla Partita perdente Eravamo lì C'eravamo quasi 16.010 dollari Quindi lasciate 16.010 pollicioni in su Spero che questo Detran vi piaccia Scrivetemi secondo voi Se è fattibile o meno Qua da V-Stard Per già tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao